Ehi nonno, cosa stai facendo nonno? Mettami in base che sto afferlando l'avvocato, l'avvocato. Mi sto comprando frutta esotica, mi poteva che mi mantiene. Ehi mamma, ha detto il nonno che vuole afferlare l'avvocato. Oh, Niki, ha detto l'ora che ci posso, 30 anni di gole, oh, non ne... Un bacio dentro il sorrino, un bacio scritto dentro il video. Un forte abbraccio a tutti, ciao ciao.